Domenica 2 agosto, Sante Eusebio. È il 214esimo giorno dall'inizio dell'anno. Ne mancano 151 al termine. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.41. La luna si leva alle 21.49 e tramonta alle 8.20. L'imperatore Massimiliano d'Austria invia alcuni sobillatori nel territorio della Repubblica Veneta per incitare le popolazioni alla rivolta. Il Consiglio dei Dieci, qui viene denunciata la cosa, dichiara che non vale la pena di occuparsene. Si può essere certi, dice, che né lusinghe né minacce riusciranno mai a intaccare la fedeltà dei sudditi di San Marco. Suoni di marca Festival. Questa sera sul palco i giovani talenti italiani Cuzzo, No Panic Mon Amour e Levante. Domani 3 agosto si riparte a suon di jazz con Antonella Ruggero e Maurizio Camardi, World Ensemble, Ernest Icco e l'orchestra jazz del Veneto. Le previsioni per domani, tempo stabile e ben soleggiato, modesta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Precipitazioni assenti, temperature massime in aumento, localmente anche sensibile, minime con variazioni di carattere locale. Venti sulle zone pianeggianti fino alle ore centrali nord-orientali, moderati sulla costa e deboli nelle zone interne, in seguito in prevalenza deboli dai quadranti orientali.